Un piano di opere pubbliche da 42 milioni per riqualificare Pordenone da qui alla primavera 2021. Lo mette in campo il Comune e lo ha presentato il Sindaco Alessandro Ciriani assieme agli Assessori De Bortoli, Amirante e Grizzo. Investimenti, viene sottolineato, che verranno realmente realizzati da qui a fine mandato. Sindaco, avete presentato un piano milionari di opere pubbliche per la città. Sono soldi vincolati ad investimenti che però devono essere messi in circolazione per consentire di completare quel piano di rilancio e di riqualificazione complessiva della città, del centro e dei quartieri. E dall'altro lato perché parliamo di decine di milioni di euro che possono essere messi a disposizione di imprese per garantire l'occupazione delle imprese stesse. Quindi l'obiettivo è duplice di dare le risposte che Pordenone attende da tempo, penso alla riqualificazione delle alcune scuole, ad edifici pubblici, alle strade, alle fognature, ai sottoservizi, al rifacimento dei marsapiedi, quello che abbiamo annunciato e dall'altro lato non tenere bloccati i soldi che in questo momento sono ossigeno puro per il sistema economico della nostra città. Diversi cantieri sono già partiti, altri ne partiranno prossimamente, dalle strade alle piazze, dagli impianti sportivi alle scuole, dall'edilizia sociale alle opere idrauliche. Grazie a tutti.